Stanno là invece di stare qua? Siamo venuti per risvegliare Emozioni ragazzi, Emozioni, dobbiamo andare a casa con le farfate nello stomaco, questa sera cantate con altri cuori, vi faccio innamorare tutte le gambe, vedrete che ce la faremo, noi abbiamo un vento infallibile, allora come ci vedremo sul Facebook, facciamo cinque serate da settimane in un'altra Italia, abbiamo un elicottero che ci porta, abbiamo una macchinaccia, però abbiamo una musica, allora come faremo a risvegliare il farfale, voi non dovete flertare solamente con la persona che mette nelle vicinanze, se volete potete, potete anche fare il piedino, non viene vietato neanche con il codice, perché non si attacchava dai piedi, ma non puoi farlo, ecco, voi dovete guardarvi attorno, quando vedete una persona che vi piace, uomo o donna che sia, dovete prendere carta e penna che trovate in tavola e scrivete un messaggino con quello che vi esce dal cuore ragazzi, vi firmate con il vostro numero che vi è stato dato, mi raccomando tenetelo bene esposto, fuori scrivete a chi lo dobbiamo portare, in questo modo si metterà in modo un meccanismo che con molta privacy porterà a sviluppare farfale.